...per il tuo figlio e in previsione della sua morte l'hai presentata da ogni amante di peccato, concedi anche a voi, per sua intercessione, di venire incontro a te in sanità e presenza di spirito. Per il nostro Signore di Cristo, tuo figlio, che è Dio, e di vera la contempo, in un'unità del pubblico santo, il segno di Gesù. Amore. Dio, dopo che l'uomo è mangiato del frutto e dell'angolo, il Signore Dio chiamò e gli disse, «Dove sei?» Rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nulla». E mi sono nascosto, ripreso, «Chi ti ha fatto sapere che sei nulla? Hai forse mangiato del margaro di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo, «La donna che tu mi hai posta, quanto mi hai dato dell'albero, e io ne ho mangiato». E il Signore Dio disse alla donna, «E' un fatto?» Rispose la donna, «Le serpente mi ha ingannato, ma io l'ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente, «Quoi ti hai fatto questo?» Maledetto tu tra tutto il bestiale e tra tutti gli animali selvatici. Su tuo ventre camminerai e... Io vorrei l'amicizia tra te e la donna, tra la tua sterpe e la sua sterbe. Questa che schiaccerà la testa e tu l'ensiglierai in campagna. L'uomo chiama sua moglieva, perché è la tua madre di tutti i viventi. Come hai capito, che si connessiencia ha 이것도 cominciato? L'uomo chiama sua moglieva, perché è la tua madre di tutti i viventi. Qual à la tua madre di tutti i viventi. A la tua madre di tutti i viventi. Grazie. 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 la facoltà attacca No, 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 non c'è questa cosa, sciogli. Dai, un po', un po'. Pronto. 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 Ok. Pronto. «Ummo, è buon lirigi o lirigi». «Ummo, è buon lirigi o lirigi». «Êmmo, è buon lirigi. Ah, è buon lirigi lo resta. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.